Open Day all'Enrico Solito per mostrare le attività e l'offerta formativa ai genitori che intendono scrivere i propri figli in questa scuola. Una scuola davvero all'avanguardia? Sì, una scuola veramente all'avanguardia. I genitori sono sempre più esigenti, vogliono sapere ed è giusto che ogni scuola possa fare vedere la propria offerta formativa. La nostra scuola ha tanti laboratori, tante innovazioni che in questi ultimi anni sono passate. Passare per le nostre aule o per i nostri laboratori, perché le nostre aule sono dei veri laboratori. Vedere i bambini che lavorano con i tablet, con le limb, oppure vedere i nostri bambini che durante l'orario curriculare fanno musica suonando le chitarre, i flauti, o andare in balestra dove c'è animazione. È una cosa molto bella e penso che il genitore debba essere convinto sulle scelte che fa, perché sono scelte importanti. La scuola primaria o addirittura la scuola di immanzia, credo che si possa dire che sia la scuola non solo di base, ma sono le fondamenta che si danno ai bambini. Da lì parte quello che sarà il loro curriculum scolastico, quello che loro diventeranno e io penso che la nostra scuola, sia con il corpo docente che ha, sia per le attività che fa, sia per la presenza continua dei genitori nelle manifestazioni, la loro partecipazione, sia proprio una bella scuola. Noi domani continueremo l'open day a Cantina Sociale, avremo la possibilità di fare conoscere anche lì la nostra offerta formativa.